Siamo qui con Mariani del Lazzaretto, bella vittoria questa sera 4 a 1 contro una delle big del campionato di Santa Maria, avete giocato un'ottima partita, molto ordinati, molto compatti, l'avete chiusa nel secondo tempo e vi portate a casa 3 punti fondamentali nella lotta a salvezza. Assolutamente sì, il peccato è che quest'anno come tutti gli anni precedenti abbiamo sempre fatto grandissime partite contro le prime squadre in classifica e abbiamo sempre perso punti con quelle al nostro livello, diciamo così. Peccato che ci troviamo sempre a giocare fino all'ultima giornata quando potremo, se non vincere il campionato, comunque essere lì a dar fastidio alle prime tutti gli anni. Il campionato è partito abbastanza male quest'anno, qual è stata la partita della svolta? Una sconfitta bruciante o magari una vittoria contro una delle big? No, semplicemente da un giorno all'altro durante un allenamento ci siamo messi, ci siamo guardati in faccia, ci siamo detti che non avevamo più voglia di andare in giro a fare figuracce e lì ci siamo svegliati, semplicemente così. Poi i risultati aiutano i risultati, pareggio una partita ne vince un'altra, adesso sono 5-6 partite che fortunatamente non perdiamo. Manca veramente poco, non bisogna distarsi perché ora i punti vanno in doppio. Assolutamente sì, siamo qua per combattere fino alla fine perché non abbiamo voglia di andare indietro sicuramente. Perfetto, grazie mille e buon prossimo video. Grazie mille e buon prossimo video.